Partita che vede la sconfitta del gruppo 82 ma una rivalta degli stessi ragazzi che comunque non ha portato buoni risultati. Un commento della partita che comunque è stato un protagonista ottimo, soprattutto in difesa. Beh sì, diciamo che la partita è stata negativa da parte nostra. Siamo partiti con un approccio diciamo un po' troppo molle, sapendo che avevamo contro un avversario di ottima caratura con ottimi giocatori, grande esperienza, uno su tutti i giorni pallotti. Ma anche dei ragazzi di Rasum Spagnoli che ci hanno fatto veramente sudare freddo parecchie volte. Tanta esperienza e anche tanti atletici, i nostri avversari, siamo partiti molli. Poi abbiamo espresso a tratti una buona palla canestro, forse un po' troppo discontinua e gli avversari ci hanno sempre punito. Quando dalla media, quando da sotto, quando in contropiede, dobbiamo migliorare sicuramente nell'agonismo e soprattutto nella fase difensiva. E anche nell'offensiva, io soprattutto diciamo che le percentuali sono state veramente basse stasera. Rola un ospite di lusso per il campionato di CSI, Gianni Pallotti che ha militato molti anni in categorie di livello molto superiore. Infatti ringrazio per i complimenti. Oggi stasera abbiamo fatto una buona partita, diciamo che la squadra nostra è una squadra buona, per cui abbiamo dei problemi di cali di tensione ogni tanto nella partita, però va bene così.